Presso il Parco Sartori si è tenuta l'iniziativa Bimbi in Bici, a cui sono accorsi un centinaio di piccoli ciclisti per percorrere insieme un tragitto di 7 km lungo le sponde del fiume Po. Obiettivo dell'evento è spingere le persone all'utilizzo della bici, soprattutto per i piccoli spostamenti, cominciando proprio dai bambini, futuro della mobilità cremonese. Nonostante la presenza sempre maggiore di piste ciclabili, infatti, a Cremona si continua ad utilizzare maggiormente la macchina, abitudine che potrebbe essere modificata soprattutto per le dimensioni della città, favorevole agli spostamenti in bici. Oggi è la giornata che io ho sognato da tanti mesi a questa parte, una bellissima giornata di sole, tanti, tanti bambini, tanti genitori, abbiamo frequentato quasi 500 bambini quest'anno, facendo progetti, laboratori, e questa è la logica conclusione di tutto il nostro percorso con i genitori e con i bambini. Si può andare a scuola anche in bicicletta o a piedi ed è per questo che noi siamo qui e cerchiamo di aiutarli. Poi qua, proprio in questa location, al Parco Sartori, voi avete finanziato questa pista qua dietro. Tre anni fa abbiamo realizzato questo circuito di educazione stradale dove i genitori possono portare i bambini per imparare ad utilizzare la bicicletta nel modo corretto, ci sono tutti i segnali. Noi ogni tanto veniamo a fare qualche corso, qui è un luogo particolarmente adatto anche ai bambini che hanno un po' il trauma del passaggio dalle rotelle, che non dovrebbero essere più usate, ma molti le usano ancora, all'autonomia completa, ma è un luogo ideale anche per tutti i bambini che purtroppo hanno qualche problema di motricità o di disabilità.